siamo con da bia che anche lei è una nuova ragazza che abbiamo portato qua quindi dovresti iniziare a pensare caspita ma quante ragazze portano ne abbiamo portato un centinaio ormai raga 101 provate a pensare lo sforzo che facciamo nel produrre tutte queste interviste che a volte vengono criticate dal mondo esterno no ma portano sempre le ragazze stesso tipo no ma provate voi a portare queste ragazze qua ogni volta vabbè adesso parliamo delle nostre cose cosa guarda un partner scusami cosa guardi nella scelta di un partner oltre la bellezza e i soldi e lo stato sociale questa domanda specifico proviene da youtube community che oggi ho selezionato le domande praticamente dall'uno all'uno un quarto prima di venire nello studio e quindi da bia ha scelto questa questo topic si ho scelto questa domanda perché secondo me un po si differenzia dalle altre senso non va a togliere o dare valore a una relazione mi spiego meglio ciò che guardo magari io come da bia in un uomo sicuramente distante da i soldi che ha la carriera che fa il tipo di persona come si presenta livello di immagine sono una persona che si lega molto al lato personale quindi ho bisogno di conoscere la persona conoscerla in profondità e conoscerla soprattutto caratterialmente per esempio una cosa che mi fa avvicinare tantissimo un uomo è la sensibilità quindi questa come si può dire questa sorta di abbraccio questa sorta di coinvolgimento emotivo molto sensibile una persona che ti fa capire che in grado di prendersi cura di te ma proprio a livello emozionale motivo quindi tutto il resto lo guardo molto difficilmente possiamo dire quanti anni hai 21 21 anni quindi ragazzi stiamo parlando di una ragazza di 21 anni quante relazioni hai avuto sinora allora relazioni serie solamente una ma ero molto piccola nel senso iniziata a 16 anni e terminata a 18 ma è due anni sì quasi tre in realtà c'era lì per i 19 e quella è stata una relazione molto importante ma allo stesso tempo è stata l'unica e la prima quindi ti insegna un sacco di cose la prima è di non strecare mai tempo nella prima relazione della sua vita per tre anni perché un sacco di perdita di tempo beh ma anche se fai una relazione in cui fai delle esperienze capisci quello che non vuoi esattamente esatto mi ha aiutato in quel senso perché comunque da lì poi capisci veramente in ciò che tra la persona con cui ti confronterei dopo cosa vuoi e cosa non vuoi nel mio caso io volevo una persona che fosse più matura un po più grande nel senso c'è già per un percorso di vita mi ritengo ora non è per egocentrismo egoismo ma sono molto più grande mentalmente rispetto alla mia generazione quindi mi spetto o meglio vorrei incontrare qualcuno altrettanto capace di insomma fare delle cose nella propria vita anche solo ambire a fare delle cose mettersi in gioco che possa essere nello studio nel lavoro in qualsiasi tipo di cosa stai facendo io nella vita faccio la ballerina insegno danza e ho terminato il liceo l'anno scorso mi sono diplomata in aliceo linguistico purtroppo causa covid non sono riuscita a iscrivermi all'università vorrei iscrivermi a fare giurisprudenza e nulla insomma un sacco di cose per quanto riguarda la danza che la mia grandissima passione tutti i giorni cerco di creare contenuti cerco di mostrarmi e migliorarmi come ballerina quello è sicuramente il mio grande sogno e infatti lo continuo a coltivare continuo a studiare continuo ad insegnare continuo a evolvermi come ballerina professionalmente anche come persona appunto per quanto riguarda la sfera personale quindi chi voglio accanto è sicuramente una persona che si investa a 360 gradi nel suo in primis e poi per quanto riguarda l'avvicinarsi con me però devo dire mi ha stupito questa ragazza che mi fa questi discorsi così molto profondi e che arricchiscono anche la mia visione perché come hai detto te una persona di 21 anni io sto pensando oggigiorno hanno in mente i follower cosa devo far vedere nella storia perché così gli altri pensano che sto facendo una bella vita non si sa come me la sono in qualche modo costruita da solo nella testa oppure sto fingendo un green screen eccetera questo è allora c'è da dire una cosa io non è che escluda quella parte lì nel senso io sono pur sempre una ragazza di 21 anni faccio le medesime cose ma il punto è non fare solo quello cioè investi il tuo tempo non solo in quello ma investilo veramente anche concretamente in altro non è che escludo il fatto che quelle cose siano importanti poi dipende ovviamente a cosa ti servono nel mio caso è un biglietto da visita per il lavoro quindi devo dedicare del tempo e delle forze per avere dei follower avere visibilità e quant'altro questo indubbiamente poi ovvio che per il ragazzino medio di 21 anni non capisco l'importanza di mostrare di avere macchinoni soldi borse cose lì lo trovo abbastanza sprecato però parlando per me io ritengo che anche lì ci sia dell'importanza però è costruttiva per il lavoro non è per il personale o una sorta di non so utilizzo instagram come se fosse tinder alla ricerca insomma di persone che mi vengano a dare le loro attenzioni alla ricerca di un partner via social ecco ok un'altra domanda che voglio farti è la seguente tra le tue amiche qual è la visione predominante nella scelta di un partner perché tu sei da via sì ok bene le altre come ragionano che priorità non è scelta di un partner la scala della selezione cosa mettono o uno cioè in termini di valori eccetera qualità e quant'altro ok allora con le mie amiche c'è sicuramente un punto in comune ossia l'inizio dopodiché si aprono un sacco di via che ci dividono il primo è sicuramente l'aspetto fisico nel senso vedo un ragazzo e tutti o ma che bello ma che figo ma che mangio e termini vari insomma poi da lì iniziamo un attimo a dividerci perché io sono una persona appunto che guarda molto il personale il lato emotivo queste cose qui mi interessano le persone ambiziose quindi ho bisogno di capire veramente la persona che ho di fronte e a quel punto inizia ad interessarmi le altre invece iniziano è ma la macchina che ha è ma quello che ha ma la casa che ha la piscina nella casa la macchina il ferrari il porsche di su di giù diciamo che sotto queste cose siamo abbastanza discordanti come pensieri non sono sicuramente tutte così però c'è da dire che magari laddove io arrivo prima quindi al mio interesse subito a capire che ho di fronte loro ci arrivano un po dopo ma ci arrivano ecco abbiamo un attimo queste visioni diverse a me non interessa che un uomo diciamo così mi tratti bene sulla base di ciò che spende per me parlo proprio economicamente parlando o viaggi macchine cose come dicevo prima invece per loro questa cosa in qualche modo attira perché bypassa come guarda come mi tratta bene mi tratterà bene sempre così e invece a me questa cosa quasi da fastidio il fatto di essere trattata così bene e completamente finanziata da qualcuno mi dà fastidio voglio essere padrona di me stessa diciamo così e un uomo se lo è bene non so se mi spiego voglio essere intera e poi un altro intero non la metà di qualcuno o la come si può dire la sovvenzionata di qualcuno ok adesso sei fidanzata no no sono sono appena stata lasciata ok allora esco io con lei va bene dai qui da cristia e da via è tutto alla prossima ciao